La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl è una fiaba ricca di dettagli che trasporta i lettori in un mondo magico e stravagante. La narrazione inizia con la descrizione del modesto nucleo familiare dei Bucket, che vive in una casa cadente e lotta finanziariamente. Quando Willy Wonka annuncia il concorso dei biglietti d'oro, l'interesse per la sua celebre fabbrica di cioccolato raggiunge l'apice. La fabbrica di Willy Wonka rappresenta un mondo magico straordinario, pieno di meraviglie e dolci fantastici. Questa è una metafora per l'infanzia, dove l'immaginazione può trasformare la realtà in qualcosa di incantevole e avventuroso. Charlie, un ragazzino dal cuore d'oro, riesce a trovare uno dei biglietti d'oro, guadagnandosi l'accesso esclusivo alla visita della fabbrica che era stata chiusa al pubblico, insieme ad altri quattro fortunati vincitori. Gli altri bambini vincitori rappresentano i vizi e i difetti umani. Ognuno di loro incarna un comportamento negativo, come l'avidità, la gola, l'egoismo o la maleducazione. Le loro esperienze all'interno della fabbrica fungono da lezioni moralistiche. All'interno della fabbrica, vengono accolti da scenari surreali, come la sala del cioccolato liquido e le dolci creazioni che sfidano la logica. La trama si sviluppa attraverso episodi divertenti e sorprendenti, mentre i vizi degli altri vincitori portano a situazioni stravaganti e punizioni da parte dei dipendenti della fabbrica Yumpa Loompa. Nel frattempo, Charlie rimane un esempio di integrità e modestia, Charlie Bucket è una metafora vivente della virtù e dell'onestà. La sua umiltà e le sue azioni gentili rappresentano un contrapunto positivo agli altri bambini vincitori. La climax arriva quando Willy Wonka, colpito dal comportamento virtuoso di Charlie, gli offre l'eredità della fabbrica di cioccolato. La storia si conclude con Charlie diventato il successore di Wonka, abbracciando un futuro pieno di avventure e dolci. Willy Wonka stesso è una figura allegorica. Da un lato, rappresenta la creatività e l'innovazione nel mondo degli affari. Dall'altro, diventa un mentore per Charlie, indicando che il successo può essere ottenuto attraverso la bontà e l'originalità, d'altronde l'ascesa di Charlie alla guida della fabbrica simboleggia il trionfo della bontà. Il libro incanta i lettori con dettagli fantastici, personaggi eccentrici e una morale che celebra la gentilezza e l'umiltà. La scrittura vivace di Roald Dall crea un mondo in cui la magia si fonde con la realtà in una dolce miscela di divertimento e insegnamenti morali.